Federico De Logu del Fertilia e Marco Nonne dell'Olmedo, convocati ad Arborea da Mr. Mura per il raduno della rappresentativa Sarda che disputerà il trofeo delle regioni categoria Juniores. Martino Agostini, Daniele Cano, Fabio Cirillo, Luca Finetti e Francesco Letizia della Mercede, inseriti nella lista dei convocati da Marco Arru per il raduno della rappresentativa regionale organizzata a Vosa in vista del torneo Primavera. Questi sono solo alcuni dei giovani calciatori che stanno attirando l'attenzione degli osservatori regionali sul movimento calcistico algherese. Da sempre fucina di atleti interessanti e nuove leve per il panorama sportivo. Nell'attesa di rivedere dopo tanti anni un algherese sui palcoscenici della Serie A, qualcosa sembra muoversi nella direzione giusta.